Siamo arrivati alla forza lana. Poi con me ti vanno a lasciarlo stare tanto e morire perché è troppo... Oh! Oddio! 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 Non ti credo! Grande, mamma mia! Guarda! 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 Guarda l'abbia! Guarda la forza! Non ci credo! Vai accalciata! Oh no! Oh no! Nooo! Non lo scopo! Perché si sta qui! Non ci credo! Noi rocce! ma pure l'altra volta sei morto per la serie stava bella però madonna santissima madonna santissima mi so cagata in mano madonna mia fra no fra non me lo fai più sti scherzi madonna santissima ti giuro mamma mia mamma mia mi hai fatto cagare in mano mamma mi what what ti giuro mamma mi fra già c'ho la pancia gonfia ma no scusatemi se era un po strano no la lì si 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 io so so mannaggia due noia che sfiga ma perchè non ho ancora mai dai che sfiga però perfetto sei coglione lori però no porco no lori no lori no lori no lori no 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 abbiamo no non ci posso credere sono caduta giù perchè il muro il muro ti fa cadere giù non ti fa rimanere sul tetto per sparare io veramente spacco il monitor io lo spacco il monitor capito vabbè e o candra grazie mille per la sub benvenuto candra ciao grazie mille per la sub candra benvenuto si più tardi faccio smr grazie manga per lost ciao tecnica tecniche tutto bene tu e non svapo in live no grazie valerio ciao si si ci ho fortuna ma accettato la richiesta un ragazzo muovelo ciao ragazzi buonasera e vieni online dov'è salvatore dimmi tutto che è successo grazie manga ah ragazzi facciamo questa magia vediamo che mi accontenta anche se ci metto poco voglio tornare che siamo a 10 sub ragazzi ecco lori la rappresentazione di lori eccola stai